Come ti chiami e qual è la tua professione? Mi chiamo Ivan e sono uno studente di odontoiatria. Mi chiamo Luca, sono un consulente di lavoro. Mi chiamo Armando Mautone e sono un imprenditore. Ciao, sono Adriano Ponte e mi occupo di consulenza finanziaria. Cosa ti ha spinto a scegliere questo corso? Vabbè, più che altro il fatto che gli esami universitari sono abbastanza complicati, abbastanza impegnativi, per cui serviva uno strumento in più per poter affrontare il percorso universitario. La voglia di provare a acquisire tecniche nuove che mi permettessero di essere più performante in primis sul lavoro, ma anche nella vita privata. Inizialmente ero venuto qui per imparare le tecniche di memoria. Sicuramente la curiosità e la voglia di migliorare quelle che potevano essere per me caratteristiche mnemoniche, quindi migliorare la mia memoria. Cosa ti porti a casa dopo questa esperienza? Sicuramente dopo questa esperienza mi porto un nuovo metodo di studio, secondo me fondamentale e molto utile. Se posso consigliarlo, se posso dire, secondo me tutti dovrebbero possedere un'arma in più per poter affrontare non solo la scuola, non solo l'università, ma anche la vita poi. La consapevolezza che con un corso ben strutturato e di questo livello si acquisiscono in pochissimo tempo tecniche che sono veramente fantastiche. Mi porto molto di più perché in realtà ho capito che non bisogna imparare a memorizzare le cose, ma bisogna imparare a organizzare e a pianificare le attività affinché poi queste cose possono essere ricordate. Tante tecniche e tanti metodi che sicuramente facilitano il processo di apprendimento. In quali ambiti applicherai quello che hai imparato? Sicuramente adesso, sicuramente per l'università, poi si vedrà per quanto riguarda la vita, sicuramente sarà utile perché quello che si apprende qui è molto utile anche per la vita in generale. Ero partito con l'idea di avere un beneficio in ambito lavorativo, in realtà mi rendo conto che ho acquisito tecniche che possono essere utilizzate anche nella vita privata, ma anche per esempio per supportare i figli nel loro percorso scolastico. In tutti gli ambiti, anche in questo caso io ero venuto per acquisire delle conoscenze, delle competenze che mi potessero aiutare nel mondo del lavoro, invece utilizzerò questo approccio nella vita personale, in famiglia, nell'educazione dei miei figli, nello sport, insomma a 360 gradi. Sicuramente una memorizzazione di dati e tabelle che poi fanno parte di quella che è la mia quotidianità. Consiglieresti a qualcuno questa esperienza? Direi a tutti, è prima possibile perché poi ti permette di vivere secondo me il tempo diversamente. Assolutamente sì perché ho trovato grande professionalità, grande disponibilità, ottimo materiale e uno staff veramente efficiente. Assolutamente sì a partire dai miei figli. Assolutamente, tanto è vero che i miei figli saranno i prossimi partecipanti al Memo Camp per bambini. Assolutamente, tanto è vero che i miei figli.